Direttamente dalla sede dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma, questa è l'estrazione del Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo Super Enalotto e la sua innovativa formula di gioco. Super Enalotto ha tre grandi novità, tante vincite immediate già al momento della convalida della giocata, si potrà vincere indovinando anche solo due numeri della sestina estratta e soprattutto il jackpot crescerà più velocemente e sarà ancora più ricco. Oggi sabato 19 novembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 50.023.320 euro, il più alto d'Europa. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 139. Inizia il mescolamento automatico delle sfere, stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero giolli. Sente strette le vostre ricevute. E in arrivo il primo numero. E il primo numero estratto di questa sera è il numero 78. Siamo al secondo numero. Con il nuovo Super Enalotto si inizia già a vincere. E il secondo numero estratto è il numero 51. Il terzo numero sta arrivando. E il terzo numero estratto è il numero 43. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto di questa sera è il numero 28. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 37. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. E il sesto numero estratto di questa sera è il numero 29. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. E il numero jolly estratto di questa sera è il numero 90. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 78, 51, 43, 28, 37, 29. Numero jolly 90. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. pronti? E il numero superstar estratto di questa sera è il numero 44. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 139 in ordine crescente. 28, 29, 37, 43, 51, 78. Numero jolly 90. Numero superstar 44. L'estrazione di oggi sabato 19 novembre termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 50 milioni di euro, il più alto d'Europa, è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 139. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del nuovo super in all'otto assegna 384.654 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 50 milioni di euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super in all'otto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 51 milioni e 100 mila euro. Vediamo adesso in dettaglio le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 sono 3 e vincono 70.342 euro ciascuno, i 4 sono 449 e e vincono 475 euro ciascuno, i 3 sono 19.512 e vincono 33 euro ciascuno, i 2 sono 328.028 e vincono 6 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 15.281 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna, una delle grandi novità della nuova formula di gioco. Scopriamo adesso insieme ai vinciti e premi superstar. Nessun 5 stella, i 4 stella sono 3 e vincono 47.557 euro ciascuno, i 3 stella sono 99 e vincono 3.308 euro ciascuno, 100 euro vanno ai 1.435 2 stella, 10 euro ai 10.187 1 stella e 5 euro ai 24.938 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi, il nuovo Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 22 novembre. Giocheremo per un jackpot di 51 milioni 100.000 euro. Arrivederci!